no abbiamo torno ok sta cambiando il tempo puoi utilizzare tutte le onde no 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 ma dice vai vai no 7 o a 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 forse qualche pezzo di os no a 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